Sono Francesca Pasquini, sono responsabile della fondazione Cefas che appartiene al sistema regionale di Regione Lombardia e che svolge come missione quella di sostenere e supportare i processi di internazionalizzazione del sistema del welfare lombardo perché Regione Lombardia ha un grosso investimento e crede molto nelle politiche di education e di sostegno al mercato del lavoro di alta qualità. È molto importante, sono qui in rappresentanza di Regione Lombardia, questa sperimentazione perché abbiamo bisogno anche nel nostro tessuto regionale di innescare dei processi innovativi di alto valore e di grande sperimentazione. Quindi l'esperienza del Master che coniuga la figura professionale del comunicatore con le problematiche della scienza e della diffusione della scienza nel mondo sociale ed economico l'abbiamo trovato una sfida che come Regione ci sentiamo di assolutamente sposare. Due attenzioni o comunque due opportunità rispetto a chi vuole intraprendere questo percorso di alta formazione e alta qualificazione che siamo in un momento storico di grande rilevanza, di grande cambiamento dove la scienza e la tecnologia ancora determinano i percorsi di sviluppo della nostra economia ma soprattutto anche della nostra società. Abbiamo però bisogno di colpire e di coprire il gap tra le istituzioni, le organizzazioni, il mondo delle imprese che rimane dietro alla capacità di assorbire questa tecnologia, queste frontiere e quelle che invece sono proiettate nel futuro. Quindi una figura che riesca a coniugare positivamente l'elemento sociale con l'elemento della diffusione di quella che è una tecnologia che viene ancora per la maggior parte dei casi vista lontana è sicuramente un profilo di volta per il nostro futuro.